C'è la stessa storia, torna dal lavoro alle 5 esatte e vuole uscire per salutarlo. Bene, sono le 5. C'è la stessa storia, torna dal lavoro alle 5 esatte e vuole uscire per aiutare 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 e vuole uscire per aiutare. C'è la stessa storia, torna dal lavoro alle 5 esatte e vuole uscire per aiutare 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 e vuole uscire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.